Luigi Sepe, Filippo De Coll, Federico Casarini, Marcel Buchel, Nadir Minotti e Diego Falcinelli. Sono queste alcune pedine che si sono rivelate fondamentali per la Virtus nel campionato scorso, che non torneranno a disposizione della società e del futuro allenatore Roberto D'Aversa. Il portiere Sepe di proprietà del Napoli è vicino all'Empoli. Buchel della Juve potrebbe approdare al Pescara. Falcinelli è destinato al Perugia via Sassuolo, mentre Minotti è rientrato anche lui all'Atalanta. A salutare i colori rossoneri oggi sarà anche Fofanà. Mandato in prestito alla Salernitana, l'attaccante dovrebbe accasarsi oggi ufficialmente a Catanzaro. In bilico ci sono anche due portieri, la Virtus ne ha quattro, Branescu, Casadei, Aridità e Amabile. Almeno due potrebbero lasciare la società frintana. Importante è la scelta del portiere per una squadra come quella rossonera, che punta la salvezza. Non a caso proprio Nicola Leali due anni fa e Luigi Sepe nella stagione appena trascorsa, oltre ad essere stati premiati come portieri migliori della Serie B, hanno avuto il merito di essere decisivi in diverse partite. Quest'anno toccherà a Branescu, almeno così sembra, difendere i pali della Virtus. Il ventenne portiere romeno, soprannominato Jan Gulliver, data la sua altezza 194 centimetri, non ha molta esperienza. Lo scorso anno ha giocato solo quattro partite con la Juve Stabia e due anni fa era nella primavera bianconera. Da gennaio si è accasato a Lanciano, ma non ha mai giocato. Una scommessa pura per un ruolo delicatissimo. Altra scommessa da fare è sulla fascia destra. Filippo De Colle è andato via e il suo posto nella linea difensiva della Virtus potrebbe essere preso da Andrea Conti, classe 94 dell'Atalanta, ma nell'ultima stagione a Perugia. Per ora è favorito rispetto al compagno di club Valerio Nava e a Joar Ferretti, terzino destro classe 94 del Milan, che lo scorso anno ha giocato con il Benevento. Giovani che hanno almeno un anno di esperienza in Lega Pro e il centrocampo, il settore in cui occorrono rinforzi di spessore, visto che Buckel, Casarini e Minotti non ci saranno. Occhi puntati sul brasiliano Pompeu da Silva Ronaldo, classe 90 dell'Empoli, che piace anche alla Pro Vercelli. Su Gabriella Peppi Res, brasiliano classe 93 della Juventus, Miguel Angel, Sainz Masa, classe 93, lo scorso anno alla Regina. Oltre ai calciatori c'è anche la questione dello staff tecnico da definire. Roberto D'Aversa non ha ancora firmato, manca il suo vice. Come preparatore atletico c'è Daniele Massi, mentre in bilico la conferma di Agrelli che potrebbe seguire Baroni a Pescara.